Ancora un'informazione, la Stata, la Stata, la Stata, la Stata, la Stata e la Stata La Stata, la Stata, la Stata, la Stata, la Stata e la Stata, la Stata Stata La Stata è una rouще di roti stradetti, che si trova tutti da oggi o di qualcuno... Quello che, se te lo sia, il nostro documento è chiaro che i nocioli duri per fare... Sono scoppiato Siamo in due parti in la guerra, abbiamo una possibilità per evitare la catastrofica atòmica fungla, dobbiamo lavorare a superare la violenza o a retirare le loro situazioni, a devolvere i territori umani, a trasferire i arsenali, queste sono le vigenci del comune, che è la causa delle donne e delle donne, grazie a tutti, grazie a tutti!